Il 2024 inizia nel peggiore dei modi per il Giappone. Un violento terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il paese del sollevante alle 16.10 ora locale, le 8.10 in Italia, del 1 gennaio. La scossa, preceduta di pochi minuti da un'altra di magnitudo 5.6, ha avuto epicentro lungo le coste centro-occidentali del paese, nella prefettura di Ishikawa, e ipocentro a 76 chilometri di profondità, facendo sì che i suoi effetti siano stati avvertiti anche a lunghe distanze. Ingettissimi i danni, essi contano anche almeno sei vittime, morte dopo il crollo di alcune case nella città di Wajima. Nelle zone più colpite dal terremoto, oltre ai tanti crolli, si sono verificati anche diversi incendi, alcuni particolarmente stesi. E inevitabilmente, dopo la scossa con epicentro in mare, è scattata anche l'allerta a tsunami, Già pochi minuti dopo, nelle zone dell'epicentro, le coste sono state raggiunte da onde alte oltre un metro, ma l'Agenzia Meteorologica Giapponese avverte che potrebbero raggiungere addirittura l'altezza di circa 5 metri. Proprio in virtù dell'allerta a tsunami, le autorità locali e nazionali hanno ordinato l'evacuazione della zona più colpita. Il tutto, mentre al violento terremoto ne eseguivano altri di minore intensità, ma di cui oltre 20 di magnitudo 4 o superiore. L'allerta a tsunami è stata diramata anche nei paesi vicini, a cominciare dalla Russia e dalla Corea del Sud. In tutti i paesi più vicini all'epicentro, infatti, è stato ordinato agli abitanti delle coste di lasciare le loro case, per cercare riparo in zone più elevate. Dal Giappone, le autorità vanno sapere che quasi 40.000 case sono rimaste senza corrente elettrica, anche se il numero, al momento, appare provvisorio. Oltre alla prefettura di Ishikawa, sono state particolarmente colpite anche quelle di Toiyama e Nigata, tutte situate nei prezzi di Honshu, l'isola principale dell'arcipelago giapponese. La situazione, in Giappone come nei paesi limitrofi, resta costantemente monitorata e in divenire. Le onde di tsunami nel mar del Giappone si stanno facendo sempre più alte e potrebbero raggiungere con violenza anche le coste di Russia e Corea del Sud. In particolare, rispettivamente, legioni di Sakhalin e Vladivostok e quelle di Kangen.